ok ragazzuoli benvenuti in un nuovo video oggi primissima discesa con la nuova bici è ancora super super pulita lucida mai usata e sono anche super curioso e super emozionato di sapere come va da altri ambassador del programma di intensa europa ho sentito belle cose ho sentito che è molto veloce e anche abbastanza facile da guidare quello che posso dire io che è fighissima esteticamente e questo già mi basta no però sono davvero molto curioso di vedere come va e sono venuto qua fino alle ligure in una bellissima giornata e andrò a provare in un sentiero come da ora ciao ciao allora ragazzi bici in tonsa come potete vedere france in tonsa la bici sì bici in tonsa cagianca fino alle ligure primo giro con la intensa m29 secondo me c'è la sala alta andiamo devo fare ancora il rodaggio i treni ma innanzitutto spero che tutto tenga perché l'ho montata io e non si sa mai no la bagno già fino a qui tutto bene dicevo del rodaggio i freni eh no la bagno già no la bagno già no la bagno già Molto molto leggera, purtroppo è già sporcata, mi dispiace un sacco Però questo è Tanta tanta roba La sensazione è super leggera Molto molto rigida e solida Nel senso come se si spostasse tutto in un tutt'uno La bici e me Molto molto figo E non vedo l'ora di andare a fare un altro pezzo Com'è? Tu? Bene Io devo sganciare le gomme Ancora? Perché questa qua è durissima È 1.8 E questa? È bella È super leggera La sensazione è che è molto molto solida È tutto un blocco unico diciamo È un luogo diciamo È un luogo diciamo È un luogo diciamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. La sensazione ragazzi è che la taglia è perfetta per me. Sono 1,77, questa è una taglia L e mi trovo davvero bene. Secondo me la scella è un po' alta, mi dà un po' fastidio, però la posizione secondo me è giusta. Mamma mia, una cosa incredibile è quanto lavori bene dietro nello scassato e nelle pietre. Sembra uno schiaccia sassi che però ti fa scorrere, cioè sembra che addirittura guadagni velocità nello scassato. È una cosa fighissima. Primo giro soddisfacente, primo giro molto soddisfacente quindi adesso via con qualche regolazione soprattutto all'ammo e vedo di abbassare ancora un po' la sella. Non vedo l'ora che mi arrivi quella un po' più stretta, non questa poltroncina. E niente, se vi è piaciuto questo video e vi vorrete vedere altri video con questa mia nuova bici, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, lasciate un commento e ci vediamo nel prossimo video. Sono andato vicino? Sì, un po' troppo. No, l'ho andato una volta, ho filmato e... Mi sembra di stare su una poltrona con questa sella. È comodissima. È comoda? Sì. Eh ma adesso è brutto, ma io voglio stare in piedi in bici a scesa.